E' vergognoso che in Italia i circhi con animali sopravvivano soltanto grazie ai finanziamenti pubblici perché i circhi con animali ricevono i soldi delle vostre tasse, i circhi con animali ricevono ogni anno più di 6 milioni di euro di finanziamenti dallo Stato italiano e invece sceglie di tagliare gli ospedali di chiudere gli ospedali, di chiudere le scuole, di chiudere gli asili nido, però sceglie di finanziare i circhi con animali noi siamo qui per ricordare che è vergognoso che l'Unione Europea continui a finanziare con 129 milioni di euro ogni anno le corride spagnole, le corride sono in crisi, l'80% degli spagnoli è per l'abolizione delle corride